Per quanto riguarda la funzione TVON, la funzione che TVSAT ci fornisce e fa sì che questo prodotto sia un vero e proprio dispositivo interattivo, ovviamente collegandolo alla rete internet, noi avremo varie possibilità. Stando su uno dei canali editori e parliamo di Rai, Mediaset, la 7, ci basterà attendere la comparsa in basso a sinistra di un pallino verde, pallino verde che ci avviserà dell'ingresso, dell'interattività su quel canale. Premere il tasto verde sul telecomando ed accedere a un mondo, il mondo TVON, ossia potremmo andare a rivedere gli ultimi 7 giorni di programmazione di molti dei canali che sono sulla lista canali, oppure andare a vedere semplicemente grazie alla funzione on demand e al TVLINK le varie applicazioni che questi canali emettono. Grazie alla funzione sempre TVLINK il prodotto ci inizierà a consigliare i programmi più consoni ai nostri gusti, grazie alle ricerche precedentemente fatte. Grazie a tutti.